Sì, bentrovati a tutti e a tutti. Come potete immaginare non è facile neanche per me trovare parole di vita, di speranza, trovare belle notizie. Questa piccola rubrica era nata proprio come uno spazio di riflessione e di spiragli di buone notizie, ma una bella notizia ce l'ho da darvi, ve la do alla fine, anche se questi giorni sono giorni di dolore, di morte, di sangue, pensiamo a quella che noi chiamiamo la Terra Santa, gli attacchi di Hamas, la vendetta di Israele, una presenza armata e violenta, quella di Israele che dura da tanti anni. Violenza chiama violenza e allora guai se davanti a questo, come era successo con l'Ucraina, la Russia o in altre parti, noi ci mettiamo fare il tifo, noi dobbiamo essere dalla parte delle vittime e condannare fermamente ogni violenza reclamando il diritto e la giustizia. Il Papa Domenica diceva gli attacchi e le armi si fermino per favore e si comprende che il terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione ma solo la morte e la sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta, ogni guerra è una sconfitta, preghiamo perché ci sia pace in Israele e in Palestina. E la buona notizia la vedete con questi due volantini, venerdì 13 ci sarà a Verbagna alle ore 20 presso il chiostro di Intran via Fratelli Cervi, Lorena e Gianandrea, Lorena Fornasir e Gianandrea Franchi che portano la loro testimonianza da Trieste vite in fuga verso una speranza. Io vi consiglio di andare ad incontrare queste persone e Don Angelo ci ricorda che domenica pomeriggio nella sua parrocchia ci sarà Don Claudio Burgio le 15 e 30 a Giffa, il cappellano del carcere minorile Beccaria. Sono ragazzi senza speranza che vanno educati alla parola, alla non violenza, servono adulti credibili. Ci vediamo venerdì, arrivederci.